Come ogni settimana si rinnova l'appuntamento con Crona che commenti la trasmissione che Teletruria dedica all'attività del Consiglio regionale. Subito i titoli degli argomenti che andremo a trattare in questa puntata. Il Consiglio regionale osserva un minuto di raccoglimento e approva all'unanimità una mozione per le vittime dell'attacco di Hamas. Multiutility, il presidente Gianni risponde ad un'interrogazione di Forza Italia. Si è aperta con un minuto di raccoglimento per le vittime dell'attacco di Hamas in Israele l'ultima seduta d'aula del Consiglio regionale. A richiederlo il presidente Antonio Mazzeo. L'Assemblea legislativa toscana ha poi approvato all'unanimità una mozione per esprimere solidarietà alle popolazioni colpite dall'attacco terroristico. L'atto di indirizzo, che nella fase narrativa ricostruisce la lunga storia di frizioni, scontri e attività diplomatiche riguardo alla questione israelo-palestinese in particolare e medio-orientale in generale, ribadisce la ferma condanna del ricorso a torture e massacri disumani e indiscriminati contro la popolazione civile inerme. Con il documento, il Consiglio regionale auspica l'apertura di corridoi umanitari al fine di garantire la messa in sicurezza della popolazione civile coinvolta. Queste le dichiarazioni in merito del presidente Mazzeo e di alcuni consiglieri regionali. Ho voluto far partire i lavori del Consiglio stamani con un minuto di silenzio per tutte le vittime innocenti di questa tragica barbaria che il gruppo terroristico di Hamas ha scadenato. Donne, uomini, bambini, tanti bambini sono stati uccisi dalla violenza del gruppo terroristico di Hamas. Allora in aula ho chiesto un impegno di tutte le forze politiche per arrivare ad un documento unitario che sostanzialmente chiedesse di porre fine a tutta questa violenza, di esprimere vicinanza al popolo di Israele, di costruire le condizioni perché si creino corridoi umanitari, la Toscana è una terra che non si è mai voltata dall'altra parte. Oggi evidentemente è necessario che ognuno di noi faccia la propria parte. Credo che la richiesta che è lì contenuta di uno sforzo che deve riprendere dal punto di vista diplomatico e che veda anche l'Europa come protagonista per far cessare le armi, per aprire corridoi umanitari nei confronti della popolazione di Gaza che ora si trova nelle condizioni di dover sfuggire magari anche ad ulteriori azioni di guerra. Tutto questo ha messo d'accordo maggioranza e opposizione e credo che sia una richiesta che speriamo sia veramente ascoltata dal mondo politico, dal mondo politico nazionale ma anche internazionale perché da qui una terra di grande civiltà abbiamo cercato di unire solidarietà, richiesta di umanità e anche la cessazione delle armi perché riprenda quel cammino e quel progetto di due popoli in due stati che possono vivere pacificamente. Credo quanto sta succedendo è una sofferenza per ciascuno di noi, una sofferenza dal punto di vista umano, politico, vedere civili sgozzati, bambini uccisi, giovani che festeggiano essere deportati, prigionieri uccisi, è una tragedia di carattere umano. Secondo me l'opinione pubblica internazionale è fin troppo silente rispetto al dramma che sta vivendo il Mediorente e quello che si sta consumando con una faida reciproca credo che meriti un impegno importante dell'Unione Europea, del nostro governo, serve una presa di posizione netta di condanna della violenza di Hamas e di una risposta ovviamente legittima che comunque deve non uccidere, non interessare i civili. Dobbiamo impegnarsi per fare in modo che i civili vengano salvaguardati e nel contempo serve diplomazia, serve politica, serve attuare un'azione che consenta a due popoli e a due stati di vivere in armonia. Servono un grande scatto di responsabilità da parte delle Nazioni Unite che ne hanno anche un pezzo di questa responsabilità se guardiamo e rileggiamo la storia degli ultimi 70 anni che oggi si stanno defilando fin troppo da un'assunzione di responsabilità e di presa di posizione. Quindi credo che l'Unione Europea in primis mi sembra non stia facendo nulla e questo è molto grave. Mi fa piacere che il Consiglio regionale della Toscana sia riuscito a produrre un atto unitario, un atto che condanna in maniera univoca e senza sé e senza ma qualsiasi atto di terrorismo, che si stringe vicino alle popolazioni colpite dalla violenza, che rifugge la violenza come metodo per risolvere controversie internazionali e che auspica che il mondo libero possa fare il proprio ruolo, cioè lavorare per arrivare a una situazione di pace. Anziché votare 4-5 atti differenti, uno per forza politica, se ne sia votato uno solo, credo sia un segno di maturità anche di tutte le forze politiche che siedono nel Consiglio regionale della Toscana. È una drammatica situazione, è una bufera politica che si riverbererà anche a livello economico, conseguentemente io spero che possa esserci una risoluzione anche se difficilmente potrà essere nell'immediato. Questo poi comporta tutta una serie di concatenazioni con l'attuale situazione Russia e Ucraina, per cui credo che ci stiamo avviluppando, avviluppando noi come genere umano, su una situazione che invece dovrebbe poter vedere la salvaguardia dei paesi assolutamente unica, quindi ognuno che sia padrone nel proprio Stato. È un atto importante e serve soprattutto a far capire che l'intento, il primo intento che deve essere portato avanti in questo momento è garantire alla popolazione civile, inermi, la possibilità di mettersi in salvo con i corridoi umanitari, abbiamo sentito purtroppo che l'Egitto questa mattina ha negato la possibilità di un corridoio umanitario per Gaza, ma soprattutto per cercare di mettere in salvo tutte le persone in attesa della de-escalation che deve essere assolutamente portata avanti dalla comunità internazionale. La mozione in questo senso spinge l'Italia insieme all'Europa ad avere un ruolo forte per questo processo che deve portare finalmente a una pace dopo decenni in cui quella zona del nostro pianeta non riesce a trovarla e credo che sia importante soprattutto anche nell'ottica della cooperazione internazionale. In Toscana purtroppo non è come la vorremmo, facciamo molta poca attività di cooperazione internazionale, ma sulla cooperazione sanitaria e abbiamo ancora dei passaggi che possono essere fatti. Io credo che il prossimo auspicio che dovremo fare per la Regione e impegno sia quello di cercare di dare una mano sotto questo profilo per tutti quelli che hanno bisogno di assistenza sanitaria in quelle zone di guerra. Il tema della multi-utility toscana torna in aula e lo fa con un'interrogazione del consigliere di Forza Italia Marco Stella. Al centro le differenti posizioni sulla quotazione in borsa della società di servizi che dovrebbe gestire gas, rifiuti, acqua, energia. Al consigliere Stella che ha parlato di ingerenza del Partito Democratico sulla politica industriale, sottolineando che non c'è modello alternativo alla quotazione in borsa, ha risposto il presidente della Regione Toscana Eugenio Gianni. In prospettiva ha dichiarato Gianni la collocazione in borsa diventa a mio parere fondamentale, ma probabilmente non è il momento. Il presidente Gianni si è poi espresso favorevolmente nei confronti dell'ipotesi di un azionariato diffuso. Il presidente Gianni stamattina ha fatto un'illustrazione di tutte le possibilità che un soggetto come la multi-utility potrebbe mettere in campo per andare incontro e favorire i cittadini dei territori ai quali fa riferimento. È un soggetto che consentirebbe di mantenere sul nostro territorio il controllo della gestione dei servizi alla comunità. Allo stesso tempo la quotazione in borsa potrebbe consentire di raccogliere capitali da mettere a profitto e da adoperare per migliorare l'operatività e l'efficienza della multi-utility. Questo tema è un tema che al momento mi sembra rinviato per decisione degli organi dirigenti della multi-utility stessa, ma è chiaro che è una delle possibilità in campo per far fronte agli importanti investimenti che la gestione delle reti richiede. Io su questo esprimo un punto di vista personale. La multi-utility è un progetto industriale che ha visto dei sindaci fare delle scelte rispetto a delle società partecipate. Non tutto il territorio toscano è stato coinvolto in questo percorso e credo che noi dobbiamo, da nostra parte, come politica toscana, determinare le condizioni per il lavoro delle aziende in Toscana. Io sono un liberale convinto in termini economici. Noi mettiamo in campo le regole, mettiamo in campo la programmazione, definiamo quelli che sono gli impianti che servono, per esempio, rispetto alle produzioni e al riciclo dei rifiuti. Dobbiamo consentire di avere l'energia, il calore per i toscani a un prezzo più basso per i cittadini e per imprese. Dobbiamo migliorare nella raccolta e nello smaltimento dei rifiuti e dobbiamo soprattutto favorire di avere un sistema industriale che produca delle economie. Poi i sindaci e le società partecipate devono fare il proprio lavoro. Quindi molte volte credo ci sia una sovrapposizione di ruoli. Molti sindaci, a mio avviso, sono entrati a cambatesa, a sproposito, su questa questione perché poi le aziende devono fare le aziende, i sindaci devono fare i sindaci e soprattutto la regione deve fare la regione. Io sto in regione e come tale il nostro compito è fare la programmazione e credo che la stiamo facendo e facendo bene. Sulla multiutility diciamo che abbiamo avuto una clamorosa marcia indietro. Una clamorosa marcia indietro soprattutto per quanto riguarda la questione della quotazione in borsa. Io credo che il tema della gestione complessiva dei servizi pubblici locali vada affrontato nel merito con un'analisi molto più profonda. La multiutility è uno strumento di gestione che è stato portato avanti da comuni importanti, chiaramente attrazione e partito democratico. C'erano delle condizioni quando questo progetto è partito alla fine del 2020 circa. Già dopo due anni noi siamo sostanzialmente a ridiscutere quello che è una scelta di politica industriale che però permettetemi nasce anche da un confronto politico interno alle forze di maggioranza che oggi hanno ribaltato quelle che erano le premesse iniziali. Io credo che su un tema come questo sia mancato un confronto nel merito delle scelte. Io penso che oggi la partita dei servizi pubblici locali che non è solo piano dei rifiuti che è la partita essenziale anche perché oggi di impianti in Toscana come ho già detto non sappiamo ancora dove saranno localizzate e quali saranno nonostante le manifestazioni di interesse ma servizio pubblico è anche gestione del servizio idrico, è gestione anche del trasporto pubblico. Noi abbiamo delle partite importanti che oggi si giocano sulla pelle, sulle spalle dei consumatori e questo naturalmente implica che ci sia una sempre maggiore vigilanza anche da parte del soggetto pubblico che non può solo giocare il ruolo di un attore economico ma deve svolgere anche un ruolo pregnante appunto da un punto di vista di controlli. Lo scontro che sta avvenendo all'interno della maggioranza sulla questione multi utility è lo specchio della confusione che regna a livello di visione che c'è in questa maggioranza e in questa giunta e che è la cosa che ci preoccupa di più. Noi siamo fortemente contrari innanzitutto alla quotazione in borsa che significa mettere le tariffe e le cifre delle nostre tariffe dei servizi quindi l'acqua, il gas e la gestione dei rifiuti nelle mani di una borsa che è completamente staccata da quelle che invece sono le funzionalità soprattutto l'acqua che dal referendum di ormai di più di dieci anni fa deve ritornare pienamente pubblica e siamo fortemente contrari anche perché quello che riguarda il piano rifiuti e che è profondamente legato al progetto di multi utility fa capire che probabilmente non ci sarebbe neanche la tenuta finanziaria per un progetto del genere ecco perché continuiamo a portare avanti a sostenere la totale contrarietà e anzi sosteniamo la ripubblicizzazione completa di tutte le società che gestiscono acqua ma anche quelle che gestiscono gli altri servizi essenziali per la popolazione. La multi utility oggi è stato argomento d'aula perché il presidente Gianni ha detto chiaramente che potrebbe essere una società non quotata in borsa a nostro avviso questo è un elemento determinante ma chiaramente per come viene posta oggi la multi utility non ha molto senso posta così com'è noi crediamo per quanto riguarda per esempio la gestione del settore idrico e lo sta facendo proprio l'autorità idrica toscana anche in questo periodo delegando e quindi creando dei subambiti e quindi cercando in realtà una gestione ben diversa rispetto a quello che su rifiuti sulla gestione dell'acqua, dell'energia la regione in questi anni ha cercato di accentrare sicuramente si sono peggiorati i servizi, si sono aumentati i costi e nei termini in cui questa discussione viene portata avanti sulla multi utility non crediamo che possano risolvere i problemi veri dei cittadini che è quello di pagare bollette meno care e servizi più adeguati Ed è tutto, questa era la nostra ultima intervista vi ricordo che l'appuntamento con Cronaca e Commenti torna la prossima settimana Grazie a tutti Grazie a tutti